Misterio è arrivata questa vittoria che è la quarta in stagione ma serve comunque a chiudere al penultimo posto ed evitare l'ultimo gradino ma soprattutto sia in tribuna che con il collega Epifani, vi conoscete molto bene per i trascorsi sicuramente a Pescara opinione comune che il Porto del Piede dall'arrivo di Ottavio Palladini ha cambiato marcia Ah sì, io ringrazio per questo ma abbiamo cambiato marcia, abbiamo cercato di costruire qualcosa quindi i ragazzi sono stati incommiabili perché in questi tre mesi ci hanno seguito nonostante poi abbiamo giocato ogni tre giorni e quindi non era semplice neanche preparare le partite però questi ragazzi si sono messi a disposizione e hanno cercato di dare il massimo fino alla fine e soprattutto dopo l'ammazzata della retrocessione diretta hanno fatto vedere che ci tenevano a chiudere bene questa stagione E si mostra anche tanti giovani, è arrivato anche il primo posto in una classifica di giovani di valore Sì sì, questa è una grossa soddisfazione per la società anche se poi purtroppo è arrivata questa retrocessione Speriamo che tutto ciò serva a qualcosa perché penso che questa società possa dire ancora la sua in questa categoria al di là del budget che può mettere a disposizione io ho trovato una società organizzata, una società seria e quindi per questo devo ringraziare le persone che sono state vicine a noi, dal direttore Cossu a tutti i dirigenti Non voglio lasciare nessuno, ma questa società ci ha dato tutto, non ci ha fatto mancare niente e quindi speriamo che si possa aprire un ciclo importante Pineto Albalonga, notaresco Matese, da esperto uomo di calcio, chi è la favorita di Ottavio Palladini? Secondo me il notaresco, ma non perché conosco Epifani, non perché voglio fare una sviolinata a qualcuno ma per i valori, per quello che ha fatto venire il campionato e per la squadra che ha secondo me è la squadra che sicuramente vincerà i playoff Grazie. 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 Grazie.